Si fa sempre più intricata la telenovela che da oramai anni sta interessando gli impianti di risalita dei prati di Tivo. Nella serata ieri è andato in scena l'ennesimo ribaltone giudiziario che coinvolge la seggio Cabinovia. L'impianto della Madonnina è stato infatti dissequestrato a distanza di appena tre giorni dall'intervento della Guardia di Finanza che aveva messo i sigilli per un'indagine relativa alle manutenzioni dello scorso anno, con l'iscrizione sul registro degli indagati di cinque persone tra le quali il gestore e l'imprenditore sanbenelettese Marco Finori. Effettivamente con gli ultimi risvolti che sono successi in questa settimana possiamo dire che ci sono stati diversi colpi di scena. La situazione purtroppo è quella che è. L'unica cosa che mi dispiace è che il territorio ne fa le spese perché forse è stata data anche troppa evidenza mediatica a questa situazione. Il territorio non può essere solo gestito in funzione di una cabinovia, ma ha altre attività e altre situazioni per cui può vivere. Colpi di scena che secondo il presidente dell'ASBUC to Disco stanno danneggiando inevitabilmente l'immagine dei prati di Tivo. Sicuramente ci crea diversi problemi perché comunque al di là di quelle che sono le situazioni legali per cui non entro in merito perché non è importante. Ci sono i giudici che stanno facendo il loro lavoro e quindi facciamoglielo fare. Però a livello mediatico stiamo pagando uno scotto non indifferente. Inoltre ricordiamo che il prossimo 7 luglio ci sarà la pronuncia nel merito del Tribunale di Teramo sul ricorso presentato dalla Gran Sasso Teramano, la società pubblico-private in liquidazione proprietaria degli impianti dei prati di Tivo e Protoselva. Sull'ordinanza sempre il Tribunale che aveva autorizzato il sequestro del ramo d'azienda alla GST e nominato finora i custode giudiziario delle attrezzature con l'incarico di amministrarle. Vediamo un attimino cosa succede anche lì. Speriamo che non ci siano altri colpi di scena che almeno facciamo questa estate in maniera tranquilla. Poi si vedrà perché tanto navighiamo a vista, si sta vedendo con tutte queste situazioni che stiamo vivendo.